L'Hockey Club Riva è campione d'Italia 2016-2017 nella categoria Under 14 maschile di Hockey Indoor e vice campione con la squadra femminile. Una a due giorni davvero da ricordare quella di sabato e domenica scorsi nel palazzetto dello sport di Bra in provincia di Cuneo per le ragazze e i ragazzi della società sportiva e per gli oltre 30 tifosi al seguito. Un gruppo che ha incitato incessantemente in tutte le partite e che ha colorato di giallo-nero gli spalti. La società Rivana è stata l'unica in Italia a schierare alle Final Four sia la squadra maschile sia quella femminile e già questo è di per sé un successo. Il tutto condito da tre premi individuali ai propri atleti, miglior giocatore Cristian Frizzi, migliore giocatrice Carlotta Travaglia e miglior portiere Giancarlo Zanelli. Cinque coppe, cinque riconoscimenti frutto di un lavoro che negli ultimi anni sta raccogliendo i propri frutti. Grazie.